Il linguaggio giornalistico da ripensare per la cronaca, il sociale, la scienza. Se ne parlate in un incontro all'abbadia di Fiastra di Tolentino organizzato dall'UXI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana. Un'esortazione importante che fece Borsellino. Parlatene di mafia, parlatene, però l'importante è che se ne parli. Il peso delle parole è la responsabilità della loro scelta nel raccontare la realtà. Nanno dalla Chiesa, presidente onorario dell'Associazione Libera, ospite virtuale del convegno dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, riprende le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla fenomenologia della criminalità organizzata e sui modelli di comportamento distorsivi diffusi da media e cinema. Il film Il Padrino, al di là delle intenzioni, ne ha parlato tanto e ha costituito la base di una... È la mistificazione del linguaggio a tradire l'impegno verso la legalità, un problema che non si riflette solo nelle periferie e che deve riportare l'educazione civica anche nei termini e nei contesti. Ricercare la verità, non per dare una versione o l'altro, semplicemente per raccontare con i termini adeguati ciò che stiamo vedendo. Una rappresentazione della realtà che deve prendere in considerazione il punto di vista dell'altro, soprattutto nelle parole usate per spiegare la disabilità. Una persona inchiodata sulla carrozzina, una parola che uccide, che ferisce, e che toglie la speranza. Molti disabili ci hanno spiegato anche che per loro la carrozzina è sinonimo di libertà. Noi dobbiamo saper raccontare con precisione quelle che sono le condizioni e anche quello che sentono le persone. È tutto per questa edizione del Telegiornale. Prossimo appuntamento con informazione regionale in TV alle 19.35. A voi grazie di averci seguito e una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti